buongiorno buongiorno a tutti eccoci per la segna stampa di oggi lunedì 5 ottobre e oggi sicuramente il tema del virus è quello che occupa principalmente poi declinato in modo diverso ma principalmente le prime pagine di tutti i giornali a questo si unisce in alcuni casi il tema delle alluvioni del dissesto idrogeologico come tema più generale e poi ci sta il papa con la sua enciclica fratelli tutti e poi ancora qualcosa sui partiti in particolare il movimento 5 stelle con la crisi interna anche con i rapporti con casaleggio e la lega con il post diciamo processo a sinizio del processo a salvini e per la politica internazionale e soprattutto trump con il suo essere positivo e se come sta se sta bene se non sta benissimo ci sono notizie contrastanti su questo e poi c'è anche la francia che vive ancora una situazione molto difficile ma vedremo tutto con calma guardando i titoli di apertura dei giornali abbiamo il correre della sera con questo titolo il ritorno di divieti più duri mentre invece la repubblica titola contagi l'allarme di conte scontro sulle regole del calcio ecco il calcio diventa anche qui nel tema del virus ha una parte molto rilevante molti giornali occupano le pagine successive alla prima con questo ma la stampa invece titola in arrivo le maxi multe per chi è senza mascherina il domani invece si dedica al tema delle alluvioni usiamo i fondi dell'unione europea per fermare la crisi dell'acqua il giornale si occupa invece della manovra e dice tornano le tasse questo è lo spettro che avanza il giornale il tempo scatta il coprifuoco in italia il libero come al solito ci ha dei titoli poi anche con un po di speranza arriva la cura antivirus è quello che ci dice in prima pagina libero il riformista edizione economica questa mattina ha vari articoli tra cui visco che individua dell'istruzione e l'innovazione i due volani per il futuro dell'italia poi vedremo ci sono delle cose riguardano il lavoro cazzola sulla posizione del governo del ministro catalogo in particolare ma anche ventivogli sullo smart working e poi c'è per esempio il messaggero che prende il virus dal lato della scuola scuola distanze inesistenti ipotesi metà lezioni da casa insomma questo è il quadro della situazione direi che possiamo partire innanzitutto col bilancio e lo vediamo sul corriere della sera pagina 6 oltre 2500 nuovi casi ma meno tamponi campania in testa preoccupa la provincia di latina e a new york torna il lockdown in nove quartieri qui si fa partendo dall'italia poi un ragionamento che riguarda con mariolina jossa che riguarda anche come vedete l'america e francia e via dicendo il bilancio è di 325.329 casi totali finora i positivi attualmente sono 57.429 guariti 231.914 i detenuti 335.986 siamo quasi a 300 a 36.000 morti in italia questo è il quadro ieri decessi sono stati 18 ma sempre partendo dal corriere della sera che dedica le pagine successive la prima a questo a pagina 2 abbiamo fiorenza sarzanini mascherina all'aperto e limiti alle regioni così il governo affronta la seconda ondata numero contingentato di persone presenti alle feste private confronto con i governatori sul coprifuoco dei locali e qui se volete poi ci sono tutti diciamo delle tabelline di raffronto il confronto nell'incremento dei contagi rispetto al giorno precedente e sono leggermente si prende scusatemi la settimana una settimana di aprile dal 20 al 26 aprile poi si prende anche qui si fa sia sui ricoverati sia sui decessi insomma ci sono un po' tutto quello che volete raffronti e poi c'è a pagina 3 il colloquio di monica guerzoni con il premier conte che dice ora tanta cautela rinunciamo a certe libertà per preservare la salute tra l'altro dice nel giorno di festa dedicata a san francesco patrono d'italia il premier giuseppe conte disegna per il paese una nuova alba e prova a far volare alto come le frecce tricolori che alla fine del suo intervento segneranno il cielo di verde bianco e rosso il presidente del consiglio parte dagli interrogativi fondamentali sulla vita e sulla morte che i mesi più dolorosi della pandemia hanno posto a ciascuno attinge la terza enciclica del papa e alla ricca spiritualità del poverello di assisi e chiede agli italiani di non abbassare la guardia siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin cui raggiunti a prezzo di molti sacrifici nel suo terzo discorso alla nazione dalla loggia del sacro convento di assisi conte esplicitamente non lo dice ma tra le righe del testo coglie quel che fino a ieri il giurista di palazzo chigi non aveva voluto ammettere l'impennata dei positivi che preoccupa moltissimo il presidente mattarella angoscia molto anche lui ieri sera il capo del governo si è chiuso con i ministri e i capi delegazione per decidere la stretta sulle regole di contenimento sin dall'inizio di questa emergenza il governo ha seguito il metodo della massima precauzione ricorda conte prima di lasciare assisi siamo ancora in piena pandemia e il costante aumento dei contagi in tutta italia seppure ancora sotto controllo ci impone di tenere l'attenzione altissima e di continuare ad essere molto prudenti questo è quello che ci dice a pagina eh tre il eh in Corriere della Sera nel eh diciamo nella conversazione di Monica Gersoni con il premier conte ma l'intervista di riferimento oggi è sicuramente quella del presidente del senato casellati che è intervistata da Paola Di Caro eh penso che questa intervista susciterà anche qualche polemica perché la presidente del senato è comunque la terza carica dello stato e sicuramente nella sua intervista oltre a fare valutazioni di carattere generale fa delle considerazioni anche di carattere politico che vedrete sicuramente qualche polemica la susciteranno il titolo è sullo stato di emergenza devono dirci la verità un progetto o il bazooka sarà una pistola ad acqua e tra l'altro dice la presidente del senato dice insostenibile un lockdown bis governo senza metodo deve coinvolgere le opzioni e tra l'altro Paola Di Caro gli dice ma quindi lei ritiene giusto o no che il governo proroghi lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e risponde alla presidente del senato sulla proroga prima di tutto occorre avere informazioni corrette senza nascondere i risultati del comitato tecnico se non abbiamo accesso alle informazioni non possiamo dire nulla abbiamo bisogno di verità gli italiani sono stanchi di oscillare tra incertezze e paure in una confusione continua di dati che impedisce tra l'altro il programmare di programmare il lavoro come vedete già qui la casellati entra insomma diretta con i piedi nel piatto e in modo anche abbastanza duro ma nel proseguo delle domande tra l'altro ne esaltiamo alcune la Di Caro le dice come giudica il lavoro in italia per richiedere i fondi prima la casellati fa riferimento alle lentezze in europa per i paesi frugali insomma la contrapposizione eccetera eccetera e risponde alla casellati dalla fine del lockdown si parla di ripresa ma oggi dopo cinque mesi tante parole niente fatti non c'è una visione strategica del paese una visione lungimirante del futuro e dello sviluppo si mettono delle toppe ma in realtà non ci si occupa dei veri problemi la cui soluzione identifica una chiara linea politica è come nascondere la polvere sotto il tappeto faccio un esempio i banchi con le rotelle non possono essere la risposta alle sfide strutturali della scuola e tutto questo incide sul dibattito europeo senza la politica con la pin maiuscola capace di costruire il progetto italia dei prossimi 30 anni anche un bazooka qualora ci fosse diventa una pistola d'acqua e va avanti vedete la casellati è molto dura nei confronti del governo e ancora la domanda della Di Caro è quali sono le priorità per il paese e risponde la casellati c'è una sola grande priorità ed è quello che io chiamerei il progetto italia ciò significa rilanciare il paese facendo ripartire le leve dell'economia infrastrutture investimenti imprese questo serve per dare lavoro lavoro e questo serve per dare lavoro 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 e soldi 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 nelle tasche degli italiani e poi basta con le troppe carte della burocrazia un freno per la produttività il piano per la ripresa si chiama generazione futura è stato pensato per i giovani non perché arrivi nel futuro ma perché prepari il futuro proprio loro che sono stati gli invisibili della pandemia devono essere protagonisti della rinascita insieme alle donne che con la scuola a singhiozzo continuano a sopportare il peso maggiore dell'organizzazione familiare ancora la Di Caro domanda condivide il metodo del governo o serviva coinvolgere di più l'opposizione e qui anche la casellati va giù dura non lo condivido perché non lo vedo è certo che le opposizioni devono essere coinvolte pensi se 70 anni fa i progetti per l'utilizzo dei fondi del piano marshal fossero stati decisi solo dalla maggioranza se il mondo se il nostro paese non si ritrova coeso attorno al dramma dei redditi crollati delle aziende chiuse delle serrande abbassate delle scuole in confusione dei posti di lavoro perduti delle famiglie e delle donne in affanno gli effetti delle divisioni si ripercuoteranno sull'oggi e sul domani ancora domanda l'intervistatrice nel frattempo il referendum ha confermato il taglio dei parlamentari e dice la casellati io mi sono già adeguata lavorando nella direzione della revisione del regolamento del senato per cercare comunque di garantire la funzionalità del parlamento e di non compromettere la qualità del suo lavoro ora urgono riforme dice la domanda da di caro e risponde la casellati l'emergenza covid ci ha dimostrato come il rapporto tra stato e regioni non funzioni serve rafforzare i compiti delle autonomie riconducendo l'attività di governo entro limiti costituzionali più chiari e stringenti penso poi al ricorso abituale alla decretazione d'urgenza troppo frequentemente blindata dai voti di fiducia il parlamento che secondo la costituzione è centrale e così viene marginalizzato per evitare che si trasformi definitivamente in un convitato di pietra dovremmo mettere dei paletti precisi ai decreti legge e sulla legge elettorale si aspetta un accordo non solo di maggioranza domanda l'intervistatrice e si conclude così l'intervista della casellati la legge elettorale deve essere fatta perché resti non per assecondare gli interessi politici del momento così sul Corriere della Sera viene trattato tutto il tema del virus, delle conseguenze ma anche di quello che dovrebbe fare l'Italia e a proposito dei rapporti tra stato e regioni e di quello che dovrebbe fare lo stato vi segnalo invece sulla stampa pagina 8 un'intervista al presidente della regione Lombardia Bonaccini che la mette così più rigore per far rispettare le regole ma non cediamo alla caccia alle streghe e a proposito del passaggio della sanità allo stato Bonaccini dice non credo sia un modello efficace e peraltro dice Bonaccini per quanto riguarda il piano del recovery fund serve la massima partecipazione delle regioni sul virus dice facciamo più tamponi e tracciamo i contatti possiamo contenere il virus sul mess ecco qui Carlo Bertini che lo intervista risponde a Bonaccini mettiamo i 5 stelle di fronte alle loro responsabilità vediamo chi non lo vota in Parlamento e da ultimo per quanto riguarda le vicende interne della PD dice Nicola Zingaretti fa benissimo a chiedere una accelerazione di governo questo è tra l'altro quello che Bonaccini dice a Bertini sulla stampa nella pagina 6 devo segnalare ancora sulla pagina 4 del messaggero un'intervista al ministro della famiglia il titolo è Focolai in famiglia e bimbi in quarantena subito test rapidi e permessi ai genitori e dice tra l'altro la Bonetti abbiamo già messo in campo ulteriori misure che ricalcano iniziative prese durante il lockdown ma mi faccia dire che per quanto delicata sia la situazione italiana la scelta di riaprire le scuole era doverosa ed è questa se vogliamo definirla così la principale mossa pro famiglie così come a protezione della famiglia va il sistema di tracciamento con l'app Immuni e tutte le misure di prevenzione e protezione che stiamo adottando in questo contesto dobbiamo fare di tutto per mantenere il vantaggio che abbiamo rispetto allo sviluppo della pandemia in altri paesi europei perché l'obiettivo di tutti deve essere quello di evitare un nuovo lockdown le nostre misure pro famiglia si dispiegano in questo contesto perché la riapertura della socialità è fondamentale per tutti a partire dai figli tra l'altro dice l'abbonetto il congedo sarà pagato al 50% anche per chi ha la partita IVA e poi ancora dice arrivano aiuti strutturali come il piano degli esili nido e l'assegno unico familiare è Diodato Pirone che intervista Elena Bonetti sul messaggero per quanto riguarda ancora il tema delle misure come vi ho detto il tempo apre in prima pagina molto polemico scatta il coprifuoco in Italia DPCM di Conte locali chiusi alle 22 al massimo alle 23 mascherine all'aperto in tutte le regioni e un'altra mazzata per pub e ristoranti e questa volta il governo non prevede alcun risarcimento è Franco Bechis in prima pagina che parla per l'appunto di questo poi a pagina 3 si spiega meglio nell'articolo di Per Paolo Rosa ultimo drink alle 23 poi a letto Conte accorcia la movida nel DPCM in arrivo la possibile chiusura anticipata di pub e ristoranti poi c'è nel taglio basso Fosca Binker che non è altro che l'anagramma di Franco Bechis sempre sul taglio basso della pagina 3 con una polemica nei confronti di Fassino il primo ad esultare sarà Fassino finalmente potrà dormire sereno da anni senza successo prova a far chiudere prima il bar sotto casa sua nel centro di Roma e va bene e poi appunto come vi dicevo prosegue a pagina 5 l'editoriale di prima pagina di Bechis che è il direttore del tempo che dice se chiudono paghino! punto esclamativo il mini knockdown sono giusti ma le attività economiche bloccate vanno sostenute con soldi veri così la mette il tempo per quanto riguarda il virus le misure compagna bella possiamo anche chiuderla qua perché poi tutti i giornali la mettono un po' allo stesso modo vi dicevo che c'è il libero che invece dà un'impostazione tra virgolette in positivo guardando al futuro è quello del vaccino arriva la cura antivirus in prima pagina parola di Silvio Garattini il fondatore dell'istituto Mario Negri è ottimista sul vaccino però sono già in fase avanzata di studio farmaci ricavati dal siero di soggetti convalescenti ce n'è uno efficace a Siena ed è Piero Senaldi che lo intervista e l'intervista prosegue a pagina 3 e dice il fondatore del Mario Negri contro il covid-19 non attendiamo solo il vaccino per il quale sono ottimista sono in fase avanzata di studio anche medicinali ricavati dal siero di soggetti convalescenti ce n'è uno molto efficace a Siena e tra l'altro dice a proposito dei nuovi focolai non mi stupisce che nel Lazio e in altre regioni poco toccate dalla prima ondata siano aumentati i contagi qui in Lombardia abbiamo sofferto molto in primavera lo si vede nei comportamenti della gente siamo più attenti l'altro giorno era a Roma e l'atteggiamento delle persone in strada mi ha inquietato e a proposito delle ricadute dice ho sentito di casi di ricadute in Estremo Oriente ma sono situazioni tutte da verificare almeno su questo non farei dell'allarmismo a proposito del vaccino abbiamo visto che dice che le cose vanno bene ce ne sono sei vaccini a finire la sperimentazione saranno plausibilmente disponibili entro il 2021 l'incognita è per quanto proteggeranno e a proposito di chi rischia ancora dice Garattini siamo tre primi al mondo come vita media ma solo quindicesimi se si parla di vita sana in Italia gli ultimi dieci anni di vita sono per molti un calvario e quando il covid attacca anziani con situazioni cliniche compromesse diventa letale insomma questo è il quadro sia per quanto riguarda i vaccini sia per quanto riguarda le possibili cure con gli anticorpi insomma vedremo che cosa succede ottenuto diciamo per quanto riguarda il vaccino sullo sfondo il tema del calcio ma in realtà per i giornali è un tema rilevantissimo e probabilmente non solo per i giornali vediamo per esempio dal Corriere della Sera come viene messa la questione due pagine vengono dedicate a questo a pagina 8 Monica Colombo e Monica Scozza Fava dicono salta Juve Napoli questo è il titolo di apertura della pagina 8 del Corriere della Sera calcio nel caos Spadafora dice è la ASL a vigilare Lega e Federazione contro il rinvio scatterà lo 0-3 per i Portenopei mai arrivati a Torino Speranza dice ci sono cose più importanti del pallone e poi se volete invece a pagina 9 a proposito di quello che succede Alessandro Bocci e Arianna Ravelli dicono blocchi a catena con regole diverse ora il campionato si scopre a rischio il match non disputato può diventare un punto di svolta il balletto tra Ministeri, Sanità, Federazioni e Lega preoccupa lo sport e poi c'è l'analisi di sconcerti che è un giornalista che si occupa molto di sport e di calcio in particolare non si gioca, si decade se decade il compromesso va bene vediamo qualche altro titolo perché la Repubblica per esempio dedica le pagine successive alla prima al tema del calcio ed è Emanuele Gamba pagina 2 scontro su Juve Napoli la serie A è a rischio imbarazzo del governo il club azzurro segue le indicazioni della Asle non va a Torino ora sarà guerra legale Agnelli dice noi le ali spadafora prima la salute speranza scuola più importante del calcio insomma così viene messa che nel taglio basso poi si fa nel retroscena di Marco Azzi anche riferimento a un possibile accordo tra il governatore della Campania De Luca e il patron del Napoli De Laurentiis e la crociata di De Laurentiis De Luca è dalla sua parte Matteo Pinci a pagina 3 della Repubblica il protocollo finito sotto accusa la politica chiede nuove regole il ministro dello sport riceve oggi gravina della Federcalcio e dal pino della Lega Serie A per chiarire i poteri delle Asle sui positivi nei club nel calendario stagionale non c'è spazio per i recuperi e poi vedete che in questo articolo si fa riferimento al vice ministro Sileri che dice che è un sistema da rivedere e poi se vincerà la linea per rigiocare la partita di ieri c'è solo una data il 13 gennaio insomma il calcio è nel pallone per usare uno slogan molto utilizzato e voglio segnalarvi anche in questo senso il tempo per un titolo che diciamo non è male il titolo del tempo è ormai siamo alla serie ASL e si fa riferimento ovviamente alla decisione presa dalla ASL che ha fermato il Napoli e quindi ha aperto tutto questo mare magnum ma c'è anche da segnalare sulla Repubblica pagina 25 se qualcuno di voi è interessato lo vediamo rapidamente però un articolo di Francesco Saverio in Torcia che spiega un po' la situazione sport e politica tempesta perfetta e scrive tra l'altro la Serie A come principali campionati europei ad eccezione della Francia per ripartire ha stilato un protocollo stilato dai medici sportivi e validato dal CTS che ha garantito un regime speciale ai cacciatori quello della cosiddetta quarantena soft in caso di positività di uno o più elementi del gruppo squadra consente agli altri di continuare ad allenarsi e di giocare questa è la chiave che ha permesso di riprendere e terminare il campionato passato e anche di iniziare con l'incorso applicando le regole generali d'altronde non si potrebbe mai giocare il distanziamento predicato nei luoghi di lavoro non è praticabile in area di rigore se non da difese particolarmente distratte né si può immaginare di battere un rigore in smart working club e cacciatori insomma accettano quotidianamente un rischio naturale per uno sport di contatto e solo mitigato dalla frequenza con cui si sottopongono ai tamponi allentata dalle ultime intempestive modifiche al protocollo erano obbligatori ogni quattro giorni ora ne basta una a 48 ore dalla partita in aggiunta la lega di A sia adeguata alle regole europee in caso di focolai in squadra si può chiedere un rinvio solo con 10 positivi e per una volta sola il jolly fin qui il sistema speciale ha retto da ognuno da giugno ad agosto non ci sono stati positivi a campionato aperto mentre la curva dei contagi nel paese era sotto controllo ma anche nelle prime settimane del nuovo torneo i club colpiti dal virus hanno applicato scrupolosamente il protocollo riducendo il numero di contagiati e accettando di giocare senza uomini illustri il Milan capolista in campionato e promesso ai gruppi e promossa ai gruppi d'Europa League ad esempio sta rinunciando ad Ibrahimovic in una sola settimana tuttavia questo equilibrio sottile si è frantumato quanto accaduto a Genova prima e al Napoli di conseguenza ha incrinato l'intero protocollo la fiducia reciproca delle squadre e anche la chiarezza delle competenze nella divisione dei poteri decisionali i tamponi effettuati dal Genova nel giorno della partita non hanno evitato che scendessero in campo giocatori poi risultati positivi poche ore dopo nel contagio di due avversari tra i club è avvenuta meno all'armonia dettata dalla necessità di sopravvivere tutti insieme sono tornati i sospetti e ancuse neanche poi tanto velate sull'applicazione scrupolosa delle norme e infine sono scese in campo le Asle in Campania ma anche in Basilicata dove è stato fermato il potenza in Serie C che hanno disattivato e privato di efficacia un meccanismo concordato fra governo e federcalcio e fin qui dimostratosi efficace pur con tutti i rischi e i dubbi del caso il CTS ieri ha ribadito la competenza delle autorità locali in materia sanitaria ma questo pone ora un problema enorme sul proseguo della stagione finora altre aziende sanitarie locali non avevano disattivato il protocollo del caccio adesso si sospette il rischio di un campionato roulette venuta meno la certezza di un modello unico nazionale si potranno applicare misure differenti di regione in regione senza la certezza di concludere un torneo che al momento non ha finestre utili per concedersi il rinvio delle gare ma questa vicenda sportiva non fa altro che riflettere l'assenza del governo di una visione di insieme di lungo cabotaggio nella gestione dell'emergenza un film già visto solo amplificato dal clamore dalla partita fantasma di ieri questo è il l'unico commento che c'è ve l'ho letto perché comunque il tema c'è non è che si può far finta che non ci sia bene però c'è anche il tema della scuola e su questo invece voglio segnalarvi il messaggero che come avete visto già in prima pagina si occupava della scuola ma poi lo fa meritoriamente anche nelle pagine due o tre e sotto diciamo l'occhiello alla difficile ripartenza il titolo ai presidi caos regole scuole senza distanze il governo non si chiude è quello che ribadisce Lorena lo iacono che ce ne parla i dirigenti scrivono al ministro situazione insostenibile chiediamo di essere ascoltati oggi incontro a Solina Speranza e Istituto Superiore di Sanità già 1470 contagi ma andamento sotto controllo e qui poi c'è la notizia di città diverse a Firenze in aula tre ore al giorno meglio tenerli a casa mancano molti supplenti garantiti esplode la protesta delle famiglie a Roma invece nell'Istituto Maffino riesce ad avviare il tempo pieno i genitori sono esasperati e sempre a Roma al liceo Ruiz connessione impossibile i ragazzi costretti a tornare in classe questo a proposito invece delle lezioni online ma a pagina tre c'è il retroscena di Mauro Evangelisti metà lezioni a distanza il pressing delle regioni ipotesi partita dal Lazio e allo studio del CTS per scongiorare il lockdown scolastico il 50% degli studenti delle superiori in presenza e il 50% a casa e turni alterni a turni alterni insomma questo è quello che ci dice il messaggero per la situazione difficile delle scuole anche se il governo dice poi lo vedremo penso ma si parla di diciamo una situazione delle scuole che è molto più tranquilla di quanto non sia quella per tante altre attività presenti nel nostro paese però rimanendo nel tema educativo diciamo andiamo oltre le scuole occupiamoci delle università e c'è una buona notizia che ci segnala il sole 24 ore in prima pagina in un articolo di Eugenio Bruno università crescono le matricole nonostante il virus i primi dati sui nuovi iscritti segnano un più 5% rispetto all'anno scorso un ulteriore segnale arriva alle domande di borse di studio che aumentano di quasi il 6% e questa è indubbiamente una buona notizia che ci dà il sole 24 ore ma ora passiamo ai temi invece che sono collegati sia alla manovra economica sia ai fondi che dovrebbero arrivare dall'Europa ci sono diverse cose cominciamo con il Corriere della Sera a pagina 14 qui finisce l'articolo sulle questioni economiche e in particolare ed è Enrico Marro che a proposito della manovra dice slitta la riforma dell'IRPEF nell'aggiornamento di bilancio 6 miliardi per l'assegno ai figli con un nuovo picco di covid ripresa rinviata e pil giù dello 10,5% e dice Marro rischia di slittare al 2022 la riforma dell'IRPEF è il risultato delle tensioni nella maggioranza e nel governo e delle poche risorse a disposizione per il 2021 la Nadef nota di aggiornamento del documento di economia e finanza che il consiglio dei ministri dovrebbe approvare questa sera oltre a confermare l'aumento del taglio del cuneo bonus renzi incremento fino a 100 euro per i redditi del lavoro dipendente fino a 40.000 euro apre sul fronte fiscale uno spazio di bilancio per circa 6 miliardi che però serve per l'attuazione del disegno di legge delega sul family act che prevede l'introduzione dell'assegno unico per ogni figlio fino a 21 anni è quello di cui parlava prima la Bonetti nell'intervista che vi ho letto si parla di 200 euro medi al mese modulati sull'ise ma questi aspetti dovranno essere definiti dai decreti attuativi del governo appunto sostituendo gli attuali sgravi fiscali per i carichi familiari detrazioni assegni e bonus questo è tra l'altro quello che ci dice il Corriere della Sera cioè che potrebbe saltare la riforma del fisco che era stata invece annunciata nei giorni scorsi ma sulla quale c'è aperto sicuramente un dibattito all'interno della maggioranza in particolare Marattin e Italia Via hanno messo in discussione il modello tedesco a cui punta Gualtieri ma vediamo ancora sul giornale che invece dedica la manovra alle pagine 2 e 3 quelle successive alla prima intanto Ludovica Bullion sulla pagina 2 recovery Nadef in ritardo esercenti sempre più in crisi l'associazione dice settori compromessi il PIL crollerà dell'8,9% il governo non riesce a far quadrare i conti poi a pagina 3 invece c'è Gianna Maria De Francesco che dice 9 milioni di cartelle il fisco ritorna vampiro dal 16 ottobre lo Stato dei comuni potranno riprendere i pignoramenti l'opposizione di Forza Italia e poi c'è il commento di Francesco Forte che si intitola così l'erario divora se stesso insomma questa è l'impostazione che c'ha il giornale che come vi avevo detto all'inizio in prima pagina titola tornano le tasse senza pietà ma non c'è solamente il tema del fisco della manovra c'è anche il tema del lavoro in questo senso voglio segnalarvi sul riformista economia che è la lezione del lunedì del riformista quella diretta da Renato Brunetta che nelle pagine 6 aspettate che che nelle pagine 6 ha un articolo di Giuliano Cazzola che dice no caracatalfo il tuo ministero non è una succursale della CGL dice il titolare del di Castello di Via Vittoria Veneto ha sempre mostrato un approccio troppo filo sindacale così rischia di combinare i pasticci anche con il recovery plan questo è quello che dice Cazzola ma a proposito di lavoro invece vi segnalo la pagina 6 del sempre del riformista economia con Marco Bentivogli sindaci e manager rassegnatevi lo smart working va alla grande contro il lavoro intelligente è in atto un'autentica contro riforma reazionaria eppure l'esperienza ci dice che a beneficiare sono stati imprese e dipendenti e allora accantoniamo il fanatismo e abbracciamo finalmente il cambiamento e tra l'altro dice a proposito delle città il lavoro agile offre l'opportunità di rigenerare il tessuto urbano e di riprogettare i centri abitati secondo una logica davvero sostenibile e per quanto riguarda le aziende dice il nuovo reparto tra libertà e responsabilità consente di guadagnare produttività e di umanizzare l'occupazione così è ventivogli sul 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 riformista c'è da dire che sul che su invece sul sole 24 ore avevo visto vediamo se lo ritrovo facilmente se no no ecco qua vedete che c'è già una risposta del sole 24 ore che dice invece la pubblica amministrazione in remoto frena imprese e studi cioè il il sole 24 ore diciamo non è così convinto come ben ti vogli che lo smart working funzioni soprattutto per le imprese ma poi lo vedremo proprio a proposito della pubblica amministrazione segnalo ancora per quanto riguarda il lavoro quello perlomeno che dovrebbe essere sarebbe si sarebbe sarebbe dovuto essere stato garantito dal reddito di cittadinanza il messaggero che a pagina 8 ci dice reddito di cittadinanza assegna rischio taglio i fondi non bastano boom di domande a causa del covid mancano 2 miliardi di euro per il 2021 in caso di risorse insufficienti il tesoro sarà costretto a ridurre l'importo dell'aiuto questo è per quanto riguarda il reddito di cittadinanza che però al di là di tutto come sapete nei giorni scorsi lo stesso conte aveva in qualche modo annunciato voler come dire rivisitare ecco diciamo così va bene passiamo adesso dalle cose diciamo che dipendono dal nostro paese a quelle che invece dipendono dall'Europa ma ovviamente poi anche da noi e mi riferisco al recovery fund e allora innanzitutto vediamo da libero un'intervista molto critica di Cottarelli sulla capacità dell'Italia di utilizzare questa opportunità che tutti sappiamo diciamo essere una grande opportunità quella del recovery fund ed è a pagina 9 di libero che Francesco Specchia intervista Cottarelli già dalla prima pagina c'è il richiamo ma a pagina 9 c'è l'intervista cacciamo i ministri che buttano via i soldi Cottarelli a tutto campo responsabilizzare i politici stoppa gli aiuti di Stato e cassa depositi e prestiti nelle aziende strategiche premiare i bravi e dice Cottarelli ho paura che useremo male gli aiuti dell'Europa e a proposito del decreto rilancio dice Cottarelli che il decreto rilancio sostituisce il patrimonio dedicato cassa depositi e prestiti un aiuto per le grandi imprese per dieci mesi con possibilità di proroga automatica strano per una cosa che dovrebbe essere temporanea poi parla di un effetto droga nell'immediato ci sarà un effetto droga per cui in un primo momento anche i soldi dati a chi li spreca riattivano l'economia e poi a proposito del MES dice oggetto di molte fake news tipo quella che se l'accettiamo Francia e Germania saranno autorizzate a mettere le mani sui nostri conti pubblici e a proposito del PIL dice secondo le stime in Italia avremo perso circa 5 punti di PIL soltanto per la paura la Germania solo uno l'economia ne risente se la salute non va bene questo tra l'altro è quello che dice Cottarelli sul Libero come vedete insomma critico e preoccupato per la gestione dei fondi del recovery se volete come vi ho detto all'inizio c'è l'apertura del riformista economia con Visco che parla per l'appunto di quello che dovrebbe essere le scelte strutturali dell'Italia istruzione e innovazione per il futuro dell'Italia ora più che mai bisogna risolvere i problemi che da tempo frenano lo sviluppo ecco la road map per un progresso equilibrato e duraturo e appunto istruzione innovazione sono sicuro la chiave di volta che Visco individua per il miglior utilizzo dei fondi europei che ci dovrebbero arrivare ma a proposito di recovery voglio prendervi e a proposito del nostro paese un articolo anche in questo caso molto duro di Paolo Balduzzi sul messaggero la via stretta per la crescita e la lentezza dell'esecutivo inizia in prima pagina e poi prosegue a pagina 20 e tra l'altro scrive Balduzzi il rimbalzo dell'anno prossimo sarà più tecnico che sostanziale ciò che dovrebbe preoccupare di più il legislatore è la prospettiva di decrescita nel medio e lungo periodo anche perché e lo ha ricordato bene anche Banca d'Italia alla fine della tempesta rimarranno comunque dei debiti da ripagare e sarà possibile farlo solo preparando il sistema economico a crescere a sufficienza senza peraltro dimenticare due dettagli il primo ancora poche settimane fa all'Ox comunicava le sue stime di crescita sotto diversi scenari di pericolosità e diffusione del coronavirus al momento è quindi solo una scommessa ottimistica quella per cui il peggio è passato e il 2021 sarà l'anno della crescita il buon padre di famiglia deve certo infondere speranza ma anche essere pronto al peggio il nostro paese sta facendo di tutto per prepararsi a un'eventuale seconda ondata di contagi che richiedono ospedalizzazione dei malati è inutile nascondersi dietro a formule diplomatiche la risposta è negativa e rinunciare alle risorse aggiuntive del MES è una scelta criminale almeno dal punto di vista economico è priva di ogni irrazionalità finanziaria la decisione di finanziarsi a tassi positivi con titoli di debito ordinari rispetto a finanziarsi a un tasso nullo se non addirittura negativo quello del MES un mix di sovranismo e ignoranza finanziaria che questo paese non si merita affatto figlio di una politica abituata a pensare e a propagandare che esistano pasti gratis ma la realtà è ben altra e cioè che ogni scelta finanziaria sbagliata ogni inutile assunzione ogni prebende elettorale si trasformano ogni anno in maggiori imposte pagate dagli italiani questi errori sono veri e propri furti e compiuti volontariamente se compiuti volontariamente e anche se non sono compiuti volontariamente dimostrano l'inadeguatezza della nostra classe politica evidentemente incapace di progetti di largo raggio e di empatia con i cittadini e qui veniamo anche al secondo dettaglio la decisione sul recovery fund che sembrava ormai cosa fatta lo scorso luglio sta procedendo al Parlamento europeo molto più lentamente del previsto per l'opposizione tanto dei paesi più attenti alla disciplina di bilancio i cosiddetti falchi o frugali quanto per la resistenza di paesi più sovranisti che vorrebbero risorse senza alcun tipo di ingerenza europea si tratta per entrambi i fronti di posizioni strumentali in questo momento non giustificabili ma che trovano terreno fertile per alimentarsi anche nella lentezza e ambiguità con cui il paese come l'Italia sta sviluppando il proprio progetto nazionale di ripresa e resilienza è prevedibile che alla fine anche queste resistenze verranno superate ma tutto ciò deve ricordare al nostro paese che la chiave del futuro è nelle nostre stesse mani e che l'autostrada a quattro corsie potrebbe velocemente ritramutarsi in un sentiero stretto se non addirittura in un vicolo cieco qui si faceva riferimento a delle dichiarazioni di Padoan a proposito del sentiero stretto e insomma così balduzzi sulla scarsa fiducia su come l'Italia si sta approntando per utilizzare il recovery fund andiamo alla pubblica amministrazione perché sicuramente uno degli aspetti della semplificazione delle procedure vi dicendo è il miglior funzionamento della pubblica amministrazione e allora vi segnalo la pagina 2 del riformista economia che ha un intervento della ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone rendere più moderni gli uffici pubblici si può vi spiego come database aggiornati documenti in digitale hub sul territorio e una struttura per la selezione dei dipendenti la pandemia ci ha offerto una grande opportunità di rinnovamento cogliamola così l'Italia tornerà competitiva così la ministra Dadone a proposito della pubblica amministrazione ecco ve l'avevo detto prima a proposito della pubblica amministrazione ma lo ripigliamo era l'articolo del Sole 24 ore a pagina 4 che dice la pubblica amministrazione remoto frena imprese e studi quindi vedete che il dibattito di cui parlavo a 20 volte sulla utilità o meno dello smart working se fa danni o non fa danni è un dibattito aperto dove ognuno si schiera ma a proposito di semplificazione voglio segnalarvi Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera in prima pagina e poi prosegue a pagina 32 che ci dice meno burocrazia adesso o mai più e tra l'altro dice Ferrara il nostro Parlamento avrà provvedimenti legislativi troppo complessi e soprattutto incompiuti in quanto necessitano di numerosi atti ulteriori per diventare esecutivi i famosi decreti attuativi ciò vale anche paradossalmente per il decreto semplificazioni la legge di conversione approvata ai primi di settembre prevede una sessantina di provvedimenti attuativi 1,5 per articolo ecco allora un primo possibile segnale il governo si impegna a varrare tutti questi provvedimenti entro la fine dell'anno di modo che la semplificazione siano pienamente operative prima che arrivi l'anticipo di Bruxelles il secondo passo deve essere più ambizioso e aggredire l'intera cornice di gestione delle infrastrutture in particolare quelle cofinanziate dall'Unione Europea nel sistema attuale ci sono troppi attori e troppi passaggi con scadenze indefinite e scarsa attenzione per la sostanza il monitoraggio alla valutazione dei risultati in alcune regioni del sud un'iniziativa banale come il restauro di un edificio scolastico a valere sui fondi della UE può richiedere fino a 5 anni insomma troppa legge e poco management e nonostante il castello di regole il sistema tende a generare comunque frodi molta corruzione e poca imparzialità il piano di ripresa e resilienza dovrebbe contenere un progetto dettagliato di razionalizzazione e sfrondamento regolativo al netto delle modifiche previste dalla legge semplificazione il segnale concreto potrebbe essere l'avvio di un programma straordinario di formazione manageriale per i dirigenti pubblici nonché l'assunzione di un consistente numero di giovani con competenze ed esperienze di analisi e gestione delle politiche europee i posti ci sono molti dei funzionari che si occupavano dei fondi UE sono andati in pensione con quota 100 la commissione ha un programma dedicato che fornisce supporto tecnico e risorse per simili iniziative fruire di questa opzione avrebbe un duplice vantaggio di sostanza ricevere assistenza concreta e di forma confermare l'impegno ad allinearsi agli standard di qualità europei e dal punto di vista simbolico sarebbe perfettamente in linea con la logica del next generation EU quella di coinvolgere i giovani nel costruire l'Italia e l'Europa del loro futuro così Ferrara sul Corriere della Sera bene cambiamo argomento e passiamo adesso al Papa ovviamente qui c'è di tutto e di più io prendo Repubblica in prima pagina basta muri e nazionalismi salviamoci insieme in prima pagina ma Repubblica poi si occupa praticamente Repubblica oggi è quasi più piena dell'osservatore romano diciamo di cose riguardano il Papa perché a pagina 10 si occupa del merito dell'encilica l'encilica del Papa il virus non è un castigo divino e si guarisce insieme l'invita a superare tutti i muri e gli egoismi siamo sulla stessa barca e i timori per i nuovi nazionalismi segni di un ritorno all'indietro ed è Paolo Rodari che scrive sulla pagina 10 di Repubblica ma poi firma anche in retroscena a pagina 11 l'inno alla fratellanza nei giorni più tormentati ma non fuggo dai lupi il messaggio all'Angelus è brutto vedere chi ha autorità nella chiesa cercare i propri interessi bisogna servire non sfruttare gli altri ma poi a pagina 13 ci sono due interviste che vi segnalo una a Massimo Cacciari la chiesa sposa l'illuminismo ma sarà inascoltato è Maria Novella De Luca che lo intervista e invece Elena Dusi accanto porta l'intervista a Roberto Cingolani che è uno scienziato come sapete Bergoglio indica valori universali e non solo cristiani ma poi Repubblica vi segnalo che non direttamente riferita all'encifrica ma invece riferita al ruolo di Papa Francesco e di tutto quello che sta accadendo nella chiesa dedica le pagine anzi con un richiamo in prima pagina ma le pagine 19, 20 e 21 a uno speciale curato da Ezio Mauro l'ex direttore di Repubblica Francesco si scontra con antichi privilegi e cardinali scontenti in un'opera di pulizia avviata da Benedetto XVI e documentata nel misterioso dossier che l'emerito gli diede quando abdicò ecco cosa nasconde il terremoto che investe ora le finanze vaticane ecco per chi è interessato qui c'è veramente di tutto sulla Repubblica ma voglio segnalarvi ancora su questo tema la stampa a pagina le pagine 18 e 19 della stampa sono dedicate a questo le picconate del Papa e i muri del mondo la politica non degeneri in populismo è Domenico Agasso Junior che scrive dal Vaticano il vaticanista della stampa e poi a pagina 19 invece c'è Marcello Sorgi che fa un commento l'appello alle elite per cambiare la storia e poi c'è un'intervista nel taglio basso che viene fatta sempre da Domenico Agasso Junior a Carlo Petrini il patron di Slow Food che dice quello di Bergoglio è un grido alla buona politica un messaggio radicale la proprietà privata viene dopo il bene di tutti così insomma vengono analizzate le parole del pontefice anche il domani a pagina 3 dà la sua interpretazione diciamo delle parole di Papa Francesco anzi no diciamo sì lo fa con Alberto Melloni che firma a pagina 3 il commento così Francesco libera la Chiesa dalla dottrina delle frasi fatte e poi se volete ci sta proprio il brano un brano che è preso dalla enciclica che è stata pubblicata come sapete dall'osservatore romano e che viene pubblicato dal domani a forza di parlare di populismo abbiamo cancellato il popolo è molto difficile progettare qualcosa di grande a lungo termine se non diventa un sogno collettivo ecco un estratto del testo della nuova enciclica diffuso ieri e questo è quello che fa meritoriamente il domani a pagina 3 ma per chiudere voglio segnalarvi invece sul Corriere della Sera il commento che è un commento è anche diciamo una sintesi di questa enciclica che è fatta da persona che sicuramente conosce non soltanto il pontefice ma conosce anche molto il mondo della Chiesa e anche la storia delle encicliche ed è Andrea Riccardi il patron di Sant'Egidio il titolo è la terza via del Papa tra liberismo e populismo e tra l'altro scrive Riccardi oggi il Papa lancia una proposta globale centrata sulla fraternità vista come processo radicale con cui ricomporre la complessità delle relazioni internazionali locali interpersonali scrive possiamo far rinascere tra tutti un'aspirazione alla fraternità chiuse virgolette è consapevole che le visioni e i progetti di respiro sono considerati oggi superati anzi osserva un delirio la Chiesa però non rinuncia a una visione globale della società certo ci si chiede se non sia semplicissimo parlare di fraternità e amicizia sociale in un mondo di altre complessità come il nostro ma un anno fa l'anziano sociologo Edgar Morin ha scritto sulla fraternità fragile come la coscienza fragile come l'amore la cui forza è tuttavia inaudita eppure mezzo per resistere alla crudeltà del mondo il Papa constata malgrado si sia iperconnessi si è verificata una frammentazione che ha reso più difficili i problemi che ci toccano tutti la grande difficoltà confermata dalla crisi del Covid è l'incapacità di agire insieme l'analisi del Papa è preoccupata c'è diffusa smemoratezza riguardo alla storia con i suoi dolori si incriano le unioni tra gli stati mentre si sviluppa il nazionalismo ma Francesco insiste nessuno si salva da solo varie per i singoli e i gruppi umani come per gli stati non è possibile essere locali in maniera sana senza una sincera e cordiale apertura all'universale pur riconoscendo il valore decisivo delle comunità locali e nazionali Fratelli Tutti lancia la globalizzazione della fraternità come via per ricercare legami sanare conflitti affermare la pace affrontare insieme il futuro in contrasto con l'individualismo contemporaneo in linea con la dottrina sociale cattolica ma con un taglio innovativo Francesco afferma il mercato non può risolvere tutto perché a volte vogliono farci credere questo dogma di fede neoliberale lo considera un pensiero povero e ripetitivo inadeguato ai problemi e alle miserie di oggi d'altra parte segna una forte distanza dal populismo che elimina la vera democrazia affermazione interessante di un papa sovente accusato di un debito verso il populismo latinoamericano nella sua visione è centrale l'idea popolare che in nome della fraternità traccia una via tra individuo e liberale e populismo un popolo fatto di comunità intermedie che abbia un progetto un sogno di crescita se si sente in queste parole l'eco della teologia argentina del popolo si deve constatare la continuità con la dottrina sociale specie con la costante ricerca di un'utopia sociale è l'espressione di una chiesa che di fronte a nuove realtà non accetta passivamente il mondo qual è sollecita cattolici e non cattolici stati e forze sociali a trasformarlo in una dimensione più umana l'enciclica è ampia e tocca tanti temi condanna la guerra la pena di morte il disinteresse ai migranti e rifugiati l'abbandono degli anziani e altro non manca il dialogo tra le religioni come terreno di fraternità ci troviamo di fronte a una summa del pensiero sociale del Papa in tanti capitoli che faranno discutere anche in un tempo come il nostro povero di idee che sono una risorsa per una chiesa oggi piuttosto silente la sua efficacia si giocherà sul dibattito che si aprirà al fondo oltre i veri temi risuona l'antico appello cristiano ingenio e sapiente tutti fratelli questo è il commento di Riccardi ma passiamo adesso ad altri argomenti abbiamo il tema delle alluvioni qui va segnalata la stampa soprattutto perché le alluvioni hanno guardato soprattutto il Piemonte e la Liguria e allora indubbiamente la stampa dà molto spazio a questo sono le pagine da 3 a 7 da 2 a 7 a pagina 2 il dramma del mare il giorno dopo l'alluvione affiorano 6 cadaveri ancora senza nome i corpi ritrovati sulle spiagge Liguri e nel fiume Roia potrebbe trattarsi delle persone disperse nel sud della Francia e poi c'è un reportage questo era Giulio Gavino invece c'è un reportage nel taglio basso della pagina 2 di Paola Scola fa dolore tra acqua e fango e Cirio dice ce la faremo ma lo Stato deve aiutarci poi a pagina 3 c'è un'intervista di Flavia Amabile al Ministro Costa i soldi contro il dissesto ci sono i comuni non sanno spenderli e dice coinvolgere nella pulizia chi prende il reddito di cittadinanza ne parlerò con la Catalfo e poi dice per fare prevenzione dobbiamo capire che il cambiamento climatico non è il futuro ma il presente se poi volete capire quali sono le conseguenze di quello che è accaduto andate nelle pagine 4 e 5 della stampa il paradiso dello sci fa i conti con il disastro è come un terremoto siamo stremati si fa riferimento a Limone in Piemonte che è una zona da sci ovviamente poi c'è Val Tanaro Tanaro come volete nella valle di confine rimasta isolata molte frazioni ora sono irraggiungibili sono i reportage che fa la stampa e poi a pagina 7 invece c'è Maurizio Tropeano che parla del caso burocrazia inchieste e adesso Brigitte la maledizione del traforo del Tenda i Savoglia impiegarono 9 anni per lo scavo ora ne sono serviti 12 per aprire il nuovo cantiere la fine lavori spostata a 2024 ma ci saranno altri ritardi insomma amici miei questo che abbiamo sempre detto con il piano shock l'esigenza di sbloccare opere che sono fondamentali anche nel campo idrogeologico eccoci qui serviti tra l'altro segnalo in prima pagina domani usiamo i fondi UE per fermare la crisi dell'acqua e Ferdinando Cotugno che scrive l'aumento l'aumento delle temperature causa secche estive e desondazioni autunnali per la sicurezza del territorio servono almeno 20 miliardi questo è quello che ci dice e che però in realtà noi sapevamo il domani veniamo rapidamente ai partiti perché qui soprattutto è il Movimento 5 Stelle ad essere al centro dell'attenzione ce ne parla Repubblica nelle pagine 14 e 15 del giornale strappo di casaleggio 5 Stelle verso l'ascissione il presidente di Rousseau nell'anniversario del Movimento 5 Stelle dice virgolette pronto a togliere il supporto della piattaforma e sostenere altri movimenti chiuse virgolette dibba con lui alto là dei big intervento arbitrario sul blog questo è la pagina 14 a pagina 15 c'è un'intervista a Maglio Di Stefano che è sottosegretario dei 5 Stelle agli esteri e dice separarsi sarebbe un fallimento sia una guida collegiale dice tra l'altro in un mondo ideale governeremmo da soli ma il sistema non vede l'ora di spazzarci via adesso il mondo ideale forse è per Di Stefano perché l'idea è che già governate da soli c'è già una diciamo una sede nella quale i 5 Stelle governano da soli ed è quella di Roma dove hanno la maggioranza assoluta ecco magari potete chiedere ai romani qual è la loro opinione su i 5 Stelle che governano da soli ma anche la stampa come sapete è sempre molto attenta al mondo 5 Stelle e allora segnalo a pagina 13 casaleggio ai 5 Stelle pronto a togliervi Russo la replica dei garanti iniziativa arbitraria e poi a proposito del Messe nel taglio basso Paolo Baroni ci dice che Patonelli non dice più no valuteremo in Parlamento e qui si fa riferimento anche a una possibile svolta sotto questo punto di vista da parte del Movimento di Grillo ma se volete una lettura molto critica andate sul giornale il quale a pagina 5 in prima pagina e poi a pagina 5 c'è un editoriale di Francesco Del Vigo che dice che è intitolato il fondatore dissociato e dice nel giorno di San Francesco d'Assisi a 11 anni esatti dalla fondazione del Movimento Davide Casaleggio decide di sfondarlo di archiviarlo distruggerlo se diventa un partito tolgo il mio sostegno tuona è l'esplosione di una pentola a pressione che bolliva di rabbia e frustrazione da anni lo sfogo di un uomo che si sente tradito da coloro i quali hanno banchettato con le sue idee mentre lui per 15 anni ha prestato gratuitamente la sua attività per un'idea di partecipazione collettiva questo è messo tra virgolette si riferisce a quello che dice Casaleggio e ce lo immaginiamo scrive Del Vigo Davide Casaleggio curvo sulla sua scrivania milanesa ad immaginare mondi lontanissimi di democrazie dirette e memorie umane che si caricano e scaricano come se fossero iPhone preso a scrutare le sue presunte preveggenze è rimasto però talmente orbo di quello che accadeva tra i suoi avrà anche intuito come sarà la società del 2050 ma non ha capito un tubo di quello che succedeva nel frattempo nel cortile di casa sua mentre lui filosofeggiava gli altri si spartivano le portrone diventavano come l'Udeur di Battista Dixit senza avere masticato la cultura politica dell'ADC incassavano l'auto e stipendi grattavano i soldi delle rendicontazioni e si imboscavano quelle delle restituzioni il movimento è diventato un partito da anni troppo comodo è diventato un partito da anni troppo comodo svegliarsi ora e fare le verginella la verginella stupita questo tra l'altro è quello che scrive Del Vigo sul giornale ma c'è anche attenzione per Italia Viva e diciamo c'è quell'attenzione livorosa che sapete che non leggo per una questione proprio di principio personale il fatto quotidiano ma diciamo il domani spesso e volentieri quando si occupa di Italia Viva lo fa con un livore che non è molto lontano del fatto quotidiano nella fattispecie lo fa con una giornalista che anche stimo a cui voglio bene che è Daniele Preziosi ma insomma il titolo è questo Renzi è rimasto senza voti ma prova ancora a ricattare il governo Italia Viva si è rivelata un flop ma l'ex premier controlla ancora i suoi parlamentari chiede il rimpasto per avere un ministro della difesa che lo aiuti a fare campagna per il vertice della Nato piano B il rientro nel partito democratico messaggio a Zingaretti e Conte insomma come avete capito si fa riferimento all'intervista di ieri un'intervista ampia nella quale ci sono un sacco di proposte di idee come spesso accade e la sintesi che domani fa di questa intervista è questa qua d'altra parte se voi guardate un altro giornale che è Il Tempo a pagina 7 si occupa di Italia Viva con questo titolo Renzi vuole Zinga nel governo e il segretario del PD dice sto bene dove sto il leader di Italia Viva riaccende i riflettori su un possibile rimpasto dell'esecutivo che è almeno una sintesi un po' più vicina a quello che era il testo dell'intervista di ieri c'è la Lega certo che c'è la Lega vediamo i giornali soprattutto diciamo alleati della Lega il giornale a pagina 6 e 7 la mette così il Tribunale dei Ministri si mette a rischio il Premier pur di inseguire Salvini l'ex PM non può essere un reato fermare i migranti se lo è Conte doveva impedirlo questo è Stefano Zurla a pagina 6 se volete a pagina 7 vi è Paolo Bracalini la soluzione di Matteo accende la sagra dei rosiconi da Saviana a Travaglio la delusione di chi lo sognava al gabbio e per i contestatori va comunque condannato così la mette il giornale ma c'è anche come potete immaginare Libero che si occupa di Salvini nella pagina 7 con un taglio non diverso da quello che abbiamo visto ah no qui invece si occupa Scusatemi Alessandro Giuli che si occupa di un altro tema vedremo se sarà così effettivamente Salvini non vuole più fare la guerra all'Europa dopo il processo e con la nuova legge elettorale il carroccio potrebbe iniziare una diversa stagione dei rapporti con Bruxelles Matteo cambia linea con l'Unione Europea si aiuta gli italiani ben venga e forse questo è anche frutto delle dichiarazioni di Giorgetti dei giorni scorsi per quanto riguarda la Lega vi segnalo l'intera pagina prima dell'insetto del foglio curata da Annalisa Chirico che è dedicata proprio a Salvini la verità sull'Europa di Salvini questa Europa non ci convince mi dispiace ma se l'Europa dovesse aiutare gli italiani ben venga l'Europa le mie idee sull'Euro abbiamo chiarito stiamo in Europa stiamo nell'Euro intervista a Matteo Salvini così è la Chirico che riprende avete visto quello che abbiamo letto anche su Libero poche notizie ancora riguarda Napoli sapete c'è stata una rapina è stato ucciso un ragazzo l'altro ragazzo arrestato è il figlio di uno che ormai non ha più un nome suo ma per tutti su giornali televisione è Gianni La Carogna va bene lo vediamo sulla stampa pagina 17 ma c'è ovviamente su tutti i giornali tenta una rapina con una pistola giocattolo Napoli ragazzo di 17 anni ucciso dalla polizia la tragedia sabato notte a poca distanza dal porto arrestato un suo complice è figlio per l'appunto di Gianni La Carogna per quanto riguarda la politica estera abbiamo concluso Trump segnalo il Corriere della Sera a pagina 11 a Trump il farmaco per i casi gravi nuovo video una lezione di vita potrebbe essere dimesso già oggi e ora spuntano altri dettagli venerdì febbre alta due le crisi di ossigeno ma anche la Repubblica a pagina 6 si occupa delle condizioni del Presidente degli Stati Uniti Fiori Cori e Insulti le due Amerite davanti all'ospedale Anna Lombardi dal Maryland per quanto riguarda invece la Francia la Repubblica a pagina 7 ci dice che Parigi torna quasi in lockdown da domani chiusura totale per i bar Gabriella Colarusso ce ne parla se volete sapere dell'Afghanistan c'è due pagine interessanti del domani sono la pagina 8 e la pagina 9 scusate un attimo eccolo qui il ventennio rimosso dell'Afghanistan è Fabrizio Coticchia che è un politologo e che ce ne parla e per chiudere vi segnalo invece sulla Repubblica quello che sta accadendo nel Caucaso nelle pagine 16 e 17 Caucaso la guerra si sposta nelle città rischio massacro è l'inviato Pietro del Re che parla di questo bene concludiamo così la nostra segna stampa se volete ci vediamo domani alla solita ora alle 7 e mezza buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti